Ciao ragazzi e bentornati su Unbox Italia. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di guardare il video in verticale. Sarà molto più comodo per voi. In questo video parliamo di me, parliamo di qualcosa di molto personale. Non solo di questo unboxing che faremo tra poco, ma di qualcos'altro. Sì, vi racconto una storia divertente e interessante. Allora, casualità, avevo fatto questo video, non so se ve lo ricordate, in merito a Amazon mi hai deluso. Questo era proprio il titolo del video. Parlavo di un prodotto, tra l'altro il microfono con il quale mi state ascoltando, che mi era arrivato con un pezzo mancante, con dei pezzi rovinati e avevo espresso un po' di delusione verso il sistema. Certo, Amazon poi mi ha veramente rimborsato il totale del microfono e poi, appena disponibile un altro, l'ho riordinato e mi è arrivato con molto, molto anticipo rispetto a quanto sarebbe dovuto arrivare. Insomma, veramente un ottimo servizio da quel punto di vista. In assistenza, sì, lo consiglio, però una delusione tale non mi era mai capitata nonostante centinaia di ordini da parte mia da molti anni. Ma la storia è molto divertente. Al di fuori di questo video, che non lo so da quanto tempo fa l'avrò pubblicato, molto molto poco, quello che è divertente è che l'altro giorno ricevo una mail da una persona che lavora per Amazon. Ok? Attenzione. Sto parlando di un social network che si chiama LinkedIn, che molti di voi conoscono. Io vi diciamo che non lo uso per cercare lavoro perché non mi serve, ma mi piace tenere aggiornato quelle che sono le mie skill, le mie... le mie competenze. Man mano che la carriera, tra virgolette, aumenta. Al di là di ciò, ricevo un messaggio che non è il classico messaggio della tipa cinese di LinkedIn che ti ringrazia che sei con noi da tanto tempo, fatti i premium per favore. No, stranamente non era da lei, anche se la miniatura me la ricordava molto. È di una tipa che lavora per Amazon, tutto scritto in inglese, che mi fa una proposta di lavoro. L'ho letta se non altro, no? Per capire di cosa si trattasse. Mi hanno dato due messaggi belli lunghi e mi propone, se sono d'accordo chiaramente, mi propone un colloquio in FaceTime in inglese perché mi contatta da fuori Italia e mi contatta per farmi una proposta di manager per un importante grande centro logistico in Italia con un contratto full time, a tempo indeterminato, mi parla, mi dice bene o male quali sarebbero i benefit, compensi economici, insomma non andiamo adesso a entrare troppo nel dettaglio. Mi ha veramente stupito questa richiesta, per carità, è abbastanza in linea con quello che sto facendo ovviamente. Vi state chiedendo se l'ho accettata o se ci sto pensando se l'accetterò. L'ho rifiutata, l'ho rifiutata in seduta stante, spiegando anche tra l'altro che i miei benefit sono assolutamente maggiori di quegli offerti e poi sto veramente meravigliosamente sul mio posto di lavoro attuale dove ho veramente grandi, grandi soddisfazioni e l'ambiente è unico. Perciò mi ritengo fortunatissimo di quello che è il mio lavoro attuale però volevo condividere con voi assolutamente anche perché non capita tutti i giorni di ricevere un'offerta di lavoro da Amazon. Per carità, è vero che ne ho parlato un po' male nell'ultimo video. Però la mia idea a livello generale non è cattiva in merito a questa compagnia e loro ho detto questa devo condividerla con i miei iscritti proprio perché non è una cosa da tutti i giorni. E dunque, oltre a condividervi che Amazon mi ha chiesto di diventare un loro manager e che io ho rifiutato, ho pensato di inviarvi, anzi non inviarvi, ho pensato di condividere con voi in questo video personale un prodotto personale. In sostanza, non faccio pubblicità niente a nessuno in realtà perché non sono pagato per farlo, ma è una cosa molto personale. Quello che vi mostro, ve lo mostro dal mio iPad, vediamo se ho la possibilità. Ho preso un pacchetto, anzi ve lo mostro dopo dove l'ho preso. Facciamo l'unboxing di questa cosa molto molto personale perché alcuni di voi forse avranno notato, non so, i più attenti probabilmente, che fuori estate. Dunque, si potrebbe anche iniziare ad andare un po' al mare. E allora ho pensato, sai che quasi quasi mi compro qualcosa alla rinascente? La rinascente? Che cos'è? Ma sì, sapete già che cos'è. Allora, mentre qua mi va in riproduzione nel mio video, vi mostro che la rinascente è questo bellissimo negozio che per carità è a Milano, lo conoscete, è fisico, ma anche un bello store online che ha un bel po' di offerte e di sconti fino al 70%. Non male. E così vediamo un po' come... Open me please. Come fare questo unboxing insieme, no? Vediamo quante cose personale vi riesco a spoilerare da qua. Vediamo? No. Qua non c'è scritto niente di personale, potete vedere. Vedete anche che questo ordine è stato frappato da... 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 Germis? Germis? Sei diventato famoso oggi. Allora, pensate che mi si sono attaccate tutte queste cartine ovunque. Allora, poi un bel po' di fogli, di adesivi, di cartine per il reso che ci interessano relativamente e poi devo dire un bel packaging per essere un negozio di vestiti. È vero che ha sporcato tutto il tavolo da lavoro, ma sarete curiosi di vedere che cosa ho comprato? Come detto è un video personale, perciò anche il prodotto è personale. Non immaginatevi nulla di tech perché è un costume! Un bel costume di questa sconosciutissima marca che aveva questo prezzino qui, 69 e io ho approfittato di questa offertona, perciò lo potete pagare 48,30. Un problema è stato la taglia, in realtà io l'avrei preferito rosso, così giusto per cambiare, perché questo rosso non ce l'ho, fa un po' bagnino, ma è carino. E a 48 euro ho pensato di... puliamo sto schifo... ho pensato di regalarmi un bel costume che ha un tessuto, boh, che sarà classico nylon in realtà penso, però non è... è bello da toccare, nel senso deve essere fatto meglio rispetto a quelli che trovate magari che ne so da intimissimi o da altre parti. Ho retina interna, ma sapete che cosa vi dico? Fare anche unboxing di vestiti, non è che mi faccia proprio schifo. Polo Ralph Lauren, 100% nylon, poi abbiamo la fodera in poliestere e poi ti spiegano come lavarlo, come stirarlo. Boh, indifferente. Comunque, un bel prodottino. Voi dite che cosa ci interessa? Boh, magari vi interessa il fatto che ci sono delle offerte interessanti sul sito della Rinascente, visto che adesso è il periodo di sconti, anche se da quanto ho letto dovrebbero posticipare gli sconti, i saldi famosi estivi di un mese, poi non ho ancora capito se è verità o meno. Anni modo, qua, per gli amanti del brand, trovate la cucitura in rilievo del logo di Ralph Lauren. Ragazzi, un unboxing diverso dove vi ho raccontato una storia interessante, dove vi dico fatevi hype perché avete la possibilità di farvi 10 euro su questa carta e potete approfittare quando volete. Io ho parlato un po' di questa offerta di lavoro che è una cosa molto personale da condividere, però ripeto, secondo me era divertente. Rifiutata in seduta a stante che tra l'altro dice anche rifiutare un'offerta di lavoro del genere, non è che capita tutti i giorni. Eppure ho la fortuna di avere un lavoro bellissimo che non vi spoilero perché questo è ancora un prossimo passaggio, magari quando arriveremo a 100 miliardi di iscritti vi racconterò qualcosa in più. Nel frattempo avrete notato il quadrante che è sempre quello della beta di WatchOS 7. Tutto si sta mostrando molto molto stabile per quanto riguarda il sistema operativo su iPhone, su iPad e su Watch. Perciò vi consiglio, se avete la possibilità, di installarlo anche sui vostri dispositivi principali perché non ho notato grossi rallentamenti. Ho ricevuto diverse richieste su Instagram dove mi chiedete ma è stabile? Mi fido? Non mi fido? Che applicazioni funzionano? Che applicazioni non funzionano? Io per quanto riguarda per esempio l'onbanking, qualcuno era curioso, sappiate che in Tesa San Paolo l'applicazione funziona su iPhone, anche con iOS 14. Datemi un feedback su questa tipologia di video, fatemi sapere se vi piace, ogni tanto magari andare così sul personale e ovviamente restiamo principalmente su prodotti tech. Ci vediamo ogni sabato, iscrivetevi sempre qua su Unbox Italia. Ciao! Ciao!